Dal Vangelo secondo Marco Si mise a parlare loro con Barabole. Un uomo piantò una vigna, la circondò con una siepe, scavò una buca per il torchio e costruì una torre. La diede in affitto a dei contadini e se ne andò lontano. Al momento Porduno mandò un servo dai contadini a ritirare loro la sua parte del raccolto della vigna, ma essi lo presero, lo bastonarono e lo mandarono via a mani vuote. Mandò loro di nuovo un altro servo, anche quello lo picchiarono sulla testa e lo insultarono. Ne mandò un altro e questo lo uccisero, poi molti altri, alcuni li bastonarono, altri li uccisero. Ne aveva ancora uno, un figlio amato. Lo inviò loro per ultimo dicendo, avranno rispetto per mio figlio. Ma quei contadini dissero tra loro costui e l'erede, su, uccidiamolo e l'eredità sarà nostra. Lo presero, lo uccisero e lo gettarono fuori dalla vigna. Che cosa farà dunque il padrone della vigna? Verrà e farà morire i contadini e darà la vigna ad altri. Non avete letto questa scrittura? La pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi. E cercavano di catturarlo, ma ebbero paura della folla. Avevano infatti capito che aveva detto quella parabola contro di loro. Lo lasciarono e se ne andarono. E' ovvio che dentro a questa parabola noi abbiamo riconosciuto subito la vicenda di Gesù. Lui è quel figlio amato mandato dal Padre per raccogliere quanto è il frutto di quel creato affidato ai vignaioli, di quel creato affidato all'umanità intera. Ma oltre a questo aspetto di essere una parabola della vita terrena di Gesù diventa per noi un grande stimolo a chiederci se consideriamo nostra proprietà quanto abbiamo o se ci rendiamo conto che tutto ciò che abbiamo tra le mani ci è stato affidato come un dono. Continuare a macchinare per avere, per prendere, per possedere, è un po' il dinamismo che ci sta dietro a quei vignaioli omicidi che prima uccidono i servi e poi uccidono il figlio. A noi è chiesto di essere coloro che custodiscono quanto hanno ricevuto in dono. Ciò che abbiamo ci è stato affidato perché noi lo possiamo trafficare nel migliore dei modi senza dimenticare il datore di ogni dono, che ogni cosa proviene da Dio, proviene dal Padre. È importante che ci rendiamo conto di questo perché spesso nella vita pensiamo solamente ad avere, a possedere, a macchinare dentro di noi per arrivare a possedere cose, persone, idee, la ragione o chissà quanto altro. E invece entrare nella dinamica che tutto quello che ho, che mi ritrovo tra le mani, è un dono che ho ricevuto e sono chiamato ad amministrare. Noi ci avviamo verso le elezioni fra una settimana. Ecco, chi è chiamato a governare la cosa pubblica dovrebbe sempre avere nel cuore e nella mente questo grande principio. Ciò che passa tra le mie mani è un dono che ho ricevuto perché io lo possa amministrare. Questo vale per tutti. Tutti abbiamo ricevuto la vita e questo non è un nostro possesso. L'abbiamo ricevuta in dono, non l'abbiamo deciso. Ma a noi è chiesto di poterla usare e trafficare nel migliore dei modi. Allora, come oggi userò della mia vita? Come oggi vivrò il mio esistere? Come deciderò di spendermi in riferimento alla mia vita? Ecco, a seconda di come scelgo, la mia vita diventa o un'immagine di possesso o una grande benedizione di dono. Grazie a tutti.